5, 4, 3, 2, 1, 10, sinistra 5, per destra 6, per destra 6, per destra 6, 10, sinistra 2 e subito tornante sinistro, per tornante destro, 30, destra 4, 10, destra 5, per sinistra 3, 10 e destra per tornante sinistro, destra per tornante sinistro, 10, sinistra 4, per destra 5, per sinistra 6, per destra 6, per subito tornante destro, 10, e sinistra per subito tornante sinistro, 10, destra 6, per sinistra 6, per destra 6, per alla casa destra 3 lunga, 20, sinistra per destra 1, sinistra per destra 1, 10, sinistra 5, per sinistra 1, 30, e sinistra 1, 10, destra 4, 30, e chicane entra a destra, chicane entra a destra, 10, sinistra per destra 5, e destra 5, per sinistra 6, 30, e chicane entra a destra, 10, sinistra 3, e sinistra 4, 10, e destra 3, per subito tornante sinistro, 10, e tornante sinistro, 10, e tornante destro, 10, destra per sinistra 3, e subito sinistra 2, chiude, 10, 10, destra 3, lunga gira, 10, destra per sinistra 5, 10, destra 5, per sinistra 5, per destra 6, per sinistra 6, per sinistra 6, per destra 6, e 20, chicane entra a destra, perché è finita eh, entra a destra, ok, bene, bravo.